E' il gol di Luca Gagliano, attaccante classe 2000, entrato nel finale a regalare il successo al Potenza nel derby a Pulo Lucano contro il Brindisi e il ritorno tra i pro. Non basta in Messapici, il gol del momentaneo pareggio di Bizzotto a sei minuti dal termine del tempo regolamentare a portare a casa un punto importante per classifica e morale. Un Potenza a grandi firme che ha innalzato decisamente l'asticella, come ha dichiarato a chiusura del mercato il presidente Macchia. Manca però l'ultimo arrivo, Schiattarella, il 3-5-2 di Colombo, allora con Di Grazia e Caturano in avanti, mentre la rigi a dettare i ritmi di gioco. Subito in campo, dall'altro lato, nel 4-2-3-1 l'esterno Albertini, ultimo arrivo di mercato nel Brindisi di Danucci, che ha profondamente cambiato pelle rispetto alla squadra vincitrice del torneo di Serie D. In avanti Bunino, mentre a Cancelli e a Malaccare il compito di schermare la difesa. Partono meglio i padroni di casa, che provano subito a dettare i ritmi di gioco. Saporiti sbaglia completamente la misura del passaggio nel cuore dell'area di rigore. Sempre il centrocampista del Potenza crossa bene, ma è attento saio ad anticipare tutti. Poi i ritmi si abbassano vertiginosamente e bisogna attendere gli ultimi minuti del primo tempo per vedere solo un calcio d'angolo del Brindisi neutralizzato dall'estremo difensore di casa. Nella ripresa pronti via e le emozioni non mancano. Sono gli ospiti a costruire subito una buona trama con Golfo, a mettere in difficoltà la retroguardia di casa. Ma il Potenza sale subito di tono e dopo neanche dieci minuti nella ripresa conquista un penalty dopo la spinta di Monti su Saporito. Dal dischetto si presenta il solito Caturano, che però si fa respingere il tiro da saio. Ma Volpe si avventa sulla respinta e porta in vantaggio i padroni di casa. Il tocco di testa di Gorzeleschi e la scossa del Brindisi, che sale di tono al 39esimo. L'assist di Nicolao, entrato da poco, viene valorizzato dal colpo di testa di Bizotto, perfetto nel tocco per superare Gasperini. Il gol potrebbe anestetizzare il match, ma la squadra di Colombo si riversa in avanti e in pieno recupero trova il nuovo vantaggio, questa volta decisivo grazie a Gagliano, che stoppa la palla nel cuore dell'area di rigore, la difende e poi fa partire un sinistro rasoterra che non lascia scampo a saio. È il gol che decide il match e gela i circa 500 tifosi brindisini giunti al Viviani per il ritorno tra i pro. Il Potenza dunque parte subito con il piede giusto e mette in evidenza anche la profondità di una rosa che vuole recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. Per conferme, la prima trasferta sul campo dell'Ostico Latina, il brindisi avrà modo e tempo di rifarsi, anche se domenica prossima lo Iacovone, per l'indisponibilità del Fanuzzi, affronterà il Catania in una sfida di prestigio, ma tra neopromosse con la voglia di riscatto.